Amici telespettatori, stiamo per seguire la diretta della finale femminile. È il momento della verità. Oggi sapremo chi sarà tra le atlete a sedersi sul trono della specialità. Ultimi istanti prima dello start. Ai blocchi di partenza la favorita tuttora è imbattuta. Partenza valida. La favorita prende subito il comando, ma a sorpresa è incalzata dalla donna controlli, che adesso la supera e si porta in testa. Ancora indietro le altre concorrenti, che aumentano però la falcata e si avvicinano le prime. Mentre in ultima posizione arranca la sposa. Saltamente in testa la manager, che rallenta, si ferma. Colpo di scena, amici. La manager è superata da tutte le altre concorrenti. Scatta bene in quinta corsia la signora in rosso. La sposa tenta il recupero, ma è incredibile, la sposa è caduta. La favorita è talonata dalla donna con la spesa. Finale entusiasmante, è un testa a testa, ma attenzione perde il passo. Si ferma, ancora una sorpresa, emozioni a non finire in questa gara. La favorita allunga ancora, è sola, ecco sul trebando, è suo, è suo, è suo. Una prestazione superlativa, conquista la posizione più ambita. La rabbia, la delusione delle avversarie sconfitte ancora una volta hanno perso un'altra occasione. E adesso aspettano che si apra per loro una nuova opportunità. Dallo stadio è tutto, a voi studio. Per molte donne, la vita è una corsa. Il motivo può essere la vescica iperattiva. La sindrome da vescica iperattiva colpisce milioni di persone. Si manifesta con la necessità di recarsi urgentemente e frequentemente in bagno, anche più di otto volte al giorno. Spesso può comportare incontinenza, soprattutto nelle donne. La sindrome da vescica iperattiva può renderti dipendente e insicura. Ma oggi le terapie ci sono e sono efficaci. Il tuo medico potrà consigliarti quella migliore per te. Vescica iperattiva. Non fuggire dal problema. Parlane con il medico.